Grazie Luca, a chi ho dato un titolo, lo pregherei di insegnarsi un urlo, come vi ho detto, tic.redeisilon, adesso un attimo che prendo la nota, tic.redeisilon, barra, costruiamo il domani. Se vorreste fare la domanda, mi fa piacere, questo è un centro di ricerca, è italiano, va bene aiutare le persone che si amano, per il momento curare le malattie, in Italia facciamo poco, da questo punto di vista, però è un centro di ricerca che è libero a livello mondiale per fare la ricerca sull'asfervo dilaterale genotopica, quello che è un momento di donazione, se ci scrivete a terra là, vi date una contributa con il distinto e le edizioni, barra, costruiranno il domani. Ma io voglio solo dire una cosa, sui prezzi, però questo libro qua, mi ha fatto notare qualcuno, ed ecco, perché alla mia organizzazione che è arrivato, c'è qualcuno che tira fuori una parte del libro che è stata particolarmente significativa, ma una frase, un libro americano di solito c'è dentro due o tre concetti sviluppati in 300 pagine con 200 esempi un po' di macchiato, i libri americani con tutti i problemi. Penso che questo libro qui c'abbia dentro tantissimi concetti, che a volte la merita renderò magari di solito al fatto, però io non sono uno scrittore. Devo ricordare l'aiuto di mio padre Alessandro Romo, che invece è uno che fa scrivere per traduzione in italiano, è l'uniente di Joshua, Joshua Hedden, che è questo ragazzo di Empoli, questo signore di Empoli, che ha una sensibilità per la tecnologia e la carenza delle linee che sono veramente fantastiche, con che sguardo non ho il capitolo, perché volevo che fosse una roba apparentemente un po' meno pesante da leggere, no? In realtà non è pesante. Per fare un esempio, Joshua fa, dobbiamo semplificare la burocrazia, ci sono i tuoi due personaggi così, no? Dobbiamo semplificare la burocrazia, giusto, troviamo un buon nickname. Un buon nickname. C'è un altro bellissimo, sei su un bel vedere con il paesaggio bellissimo, e dice uno all'altro, è bellissimo, ti lascia senza hashtag. Poi sul lavoro c'è una che dice, questo sta lavorando, parla cogliato, che mi dice, è domenica e sto lavorando, e l'altro risponde. No, no, stai lavorando e è domenica. E tutto questo è sicuramente un portabile della tecnologia. No, dicevo che le persone si trovano in tanti spunti, che chiaramente è un libro che ho cercato io, ve l'ho trovato da tanti spunti, magari con pochi tempi, potrebbe essere molto più lungo, però è abbastanza benissimo, ma abbastanza benissuta ad alto livello, ed è anche rigoroso, cioè, non è che questa critica ti erudore rispetto a farla bene la burocrazione, è abbastanza, è rigoroso. I futuri che diceva Luca, li ho tutti discussi approfonditamente con dell'agente esperta del settore, dalla moneta, si chiamava il futuro della moneta e poi mi è stato il futuro dell'unità di conto, dopo aver parlato con questa persona che sono utile, io grazie a me. L'unico che, l'unico futuro che avevo tirato, io vi ricordo, però, gli ingredienti di base sono questi, primo capitolo, secondo capitolo, questo è quello che accade adesso, terzo capitolo, questo è dove andiamo. L'unico dove non avevo un po' un conforto da parte degli esperti, era con un produttore e con una regista cinematografica, poi è stato un gestore del cinema, non accade. Poi una sera c'è nato un tornatore, fatto lui, a giro di cederà che è stato fuori il libro, è stato fantabile, quindi anche sui, posso dire che tutti i futuri sono confrontati, sono sintetici, abbastanza generali, ma rigorosi. Sul tema del mercato, e lo accenno anche, il fatto è che il mercato come vuole si forma di fretta, è la domanda di un altro, è la domanda dell'offerta. Adesso noi, però, stiamo voltando a una situazione dove il mercato non c'è più, dove non c'è un mercato di 60 milioni di mercati, perché se io ho una conoscenza perfetta tua e so la tua storia di acquisti, il tuo gradimento, posso fare il prezzo perfetto per il tuo prodotto, che è un competitor che non ha quelle informazioni, non può fare, quindi anche quello genera un briscolino di condizione dominante, che però modificato per tutti, diventano una condizione dominante enorme, e quindi si rischia che uno è lì di competere, e in effetti se ci pensate, questo sta già accadendo, perché ci sono tante aziende che, mentre noi siamo vituaste, chiunque di noi può immaginare dire, ha un altiturismo, vado e faccio concorrenza del altiturismo, faccio un titolante, vado, e quindi c'è il tema della licenza, un minimo di pianificazione, un minimo di pianificazione per assicurare che ci possa essere una concorrenza sostenibile, ma chi di noi oggi si metterà a dire, faccio un nuovo programma di questo? Magari si interviene circa di ragazzini tra i 12 anni e 12 anni e mezzo, ok? Allora posso, però non ci succede, ma chi si metterà a fare un motore di ricerca? No, chi si metterà a fare una piattaforma di arte? Chi si metterà a fare una... posso sempre pensare di andare a tagliare delle feste, ma la competizione non è nel mercato, ma per il mercato. Cioè, l'obiettivo è conquistare il mercato, quella festa di mercato, lavorano quando vogliamo, prendono quando vogliamo, però una festa di mercato. E questo porta al fatto dell'azienda di non perdere. E questo l'ho fatto all'unità molto negativo. di sicuro la politica si deve occupare di queste cose, invece qui non ho le slide, ma... e non è che io sono molto ottimista che se ne occuperà in Italia. Eh... per proporre un po' gli analisi... Allora, l'antitrust nasce non come fatto politico, ma anche in un fatto politico. Perché la concentrazione nel mercato e nel mercato era tale che chi governava le carriere governava i paesi. Ed era un potere troppo grande perché fosse contenuto solamente nelle mani di poche persone non elette. E per quello hanno detto, allora, introduciamo una concorrenza. Perché la concorrenza è una cosa che ci serve a spazio del potere. Ecco, con la domanda di insegnamento, c'è una bella sentenza citata nel libro, perché si diceva tutto mediativa nel 1948, che è immaginabile in una situazione di un mondo dominato dai signori dell'acciaio, che in cittadini, naturalmente, si proponeva queste idee e diceva, tu sei matto, quella è la direzione, è ottimo comunque. A quel mondo cambia la realtà che c'è la politica, quando la politica... e che tempo? Quando la politica ha il diritto verso scenari socialmente deliberati. Quindi io penso che accadrà. Non credo, ripeto, che possa fare bene l'Italia, da tanto ragione. E devo dire che è una grande generazione degli Stati Uniti che trovano loro stessi le ragioni di conflitto e dei momenti assisterati. E di recente ci sono stati dei discorsi della senatrice buona. La senatrice buona che non è dedicata ad essere il sedice, se dice la Clinton, se dice la Clinton ad essere vicepresidente. E lei pone il problema dell'eccesso di potere applicato ad alcuni sistemi. E come questi poteri siano diventati dei poteri indipendenti della politica in qualche modo, no? Quindi, queste sono cose che siamo destinati a cambiare. Tu prima dicevi cose che non cambieranno male. Le cose cambiano. Io penso che cambieranno e cerco di chiedere perché, quali sono i condizioni per cui secondo me queste cose cambieranno. Se noi guardiamo i dati del 2015, dei principali retail, delle aziende, degli Stati Uniti, Walmart, tutti, hanno tutti perso quella personale sapretaria che vende farmaceutici, parla farmaceutici per un attiato regolamentato, ma gli altri viaggiano a perdite medicali, le 12, 15, 20, 30%, con Walmart in più i centri, i giorni che diventano più servizie, quello che generano i problemi sociali enormi, no? E questo è sempre delle condizioni. Poi vai a vedere i simboli, vado a dire che i simboli sono, che tutto l'invento si vive e quali pensioni in generale. E poi alla fine c'erano solo due anni e anni. Questa cosa cambierà perché non è socialmente accettabile il mondo per lì, no? Quindi non si tratta di modificare l'uno piuttosto dell'altro, ma stiamo semplicando di fare delle regole che cercano di aprire degli spazi anche per altri, che è una piccola prima cosa, la vedete che abbiamo trovato nella camera. Poi volevo dire un'ultima cosa, questi regali li studiamo, ed era l'appendice. L'appendice ho messo una parte interessante che è quella, dove vado ad allorscena, no? E poi una spiegazione di che cosa è internet spiegata, a chi non sapete cosa è internet, che è un tipo ecologico. E la blockchain ho trovato questa roba molto molto divertente, che sono le monete di isola di atto. Allora, che cos'è la blockchain? Penso che a voi che non possa essere chiara questa tecnologia, per parlare di queste direte monete scrittografiche, dove non c'è più un singolo del scrittore, ma il registro di quanti soldi unido e quanti soldi a lui è un registro pubblico e condividito. Ok? E tutti sanno che, ecco, il registro pubblico e condiviso invece di avere il libro amastro che non trovava banca. Beh, succede che questa roba si faceva nell'isola di Gap, dove le monete erano delle pietre colate, ma ne avevano anche due metri di diametro, erano un po' scomole da portarsi in giro. Allora, per l'initario di portarsi in giro, chi aveva la moneta da due metri e mezzo, chi sapeva che era la mia, perché tutti lo sapevano. E se io lo davo nunca, la trasferivo e la trasferivo dicendolo a tutti. Quindi quella moneta lì, due metri e mezzo di diametro, è un registro condiviso del valore. Ma la cosa interessante è che poi ci sono stati dei maremoti e alcune di queste monete sono finite in mare, nell'oceano. E allora la moneta di Luca, da due metri e mezzo, che non c'è più, ma lui ce l'aveva. Lo sanno tutti e hanno deciso che è materializzato. E hanno deciso che valeva lo stesso, capito? Perché? Perché quello di contere non ci sono distribuito di informazioni materializzate. E' un capo. Io non vorrei, però, quello che vi piace, insomma. Poi ci sono dei conteri anche di studiare, non so se ci sono delle domani o delle cose.